Un incontro, una riunione tenutasi poche ore fa a Palazzo di Vetro a Corbara, voluta da tutti i sindaci dell'agro. Eccolo qua l'agro. Un immenso e meraviglioso territorio, purtroppo rovinato dalla urbanizzazione che si è sviluppata nel corso di questi decenni. Durante la riunione si è discusso dei progetti per il PNRR. La possibilità di poter intervenire con i fondi garantiti dal progetto del PNRR per poter intervenire su alcuni quanto mai importanti argomenti. Uno fra i tanti la mobilità e poi il rischio idrogeologico. Noi ci siamo portati in collina per farvi vedere che cosa è l'agro nocerino sarnese. Una urbanizzazione selvaggia avvenuta, dicevo, negli ultimi decenni, con strade che sono ormai al limite del collasso per il traffico eccezionale in taluni giorni, in taluni ore, che purtroppo impedisce i collegamenti. Ecco, voglio farvi vedere. Qui abbiamo di fronte a noi l'autostrada che collega Salerno a Napoli e poi la variante che collega attraverso tutto il territorio paganese e si porta verso i confini della città di Pagani andando verso San Lorenzo, Angri e Nocera dall'altra parte. Bisogna intervenire, hanno detto i sindaci, bisogna intervenire con progetti che assicurino fondi per poter creare i presupposti per la sicurezza riguardo al sistema idrogeologico e dare la possibilità di creare nuove opportunità di collegamento per garantire sveltezza negli scambi commerciali, culturali, ma negli scambi di vita che ci dovrebbero essere in tutta questa valle. Ma c'è anche il rischio ambientale. Il rischio ambientale che purtroppo è stato vissuto negli ultimi anni con molta nonchialanza, senza molta preoccupazione. In questo luogo, questo è l'ingresso della seconda cava che è risultata altamente inquinante ed inquinata. Però, però, non voglio sorridere perché sono cose che dovrebbero far piangere. Da allora, da allora, niente più, il silenzio. La cava sta qui, è chiusa, anzi è chiusa, era chiusa, perché adesso il sentiero vi porta fin sulla cava. Non c'è una sbarra, non c'è nulla. E anche di questo si è parlato in questa riunione che ritengo importantissima per il futuro del nostro territorio.